E oggi c'è un grande maestro, un grande maestro del Novecento in assoluto che è nostro ospite, verrà anche premiato, è qui in sala e direi che la prima cosa è fare un grande applauso a Ennio Morricone. In una serata titolata Grazie Ennio è dedicata la sua musica, la musica per film, non la musica da film, c'è una distinzione importante. Se voi pensate al Novecento musicale, uno degli elementi, per esempio nell'ambito eurocolto, accademico, che ha segnato il distacco tra i musicisti e il pubblico, è stata in fondo l'allontanarsi da quello che era, da parte dei musicisti colti, un immaginario popolare, un qualche cosa che creasse una comunicazione. La musica per film invece entra nell'immaginario collettivo in una maniera singolare. È grande musica di per sé, quando non è appunto una semplice sonorizzazione, ma sposandosi alle immagini trova un nuovo terreno collettivo di comunicazione. Non solo, ma rafforza essa stessa quella che è la capacità di penetrazione dell'immagine, della visione. E infatti, se ci pensate bene, quando noi ascoltiamo grandi pagine di musica per film, immaginiamo immediatamente le scene, ma viceversa se vediamo delle scene cinematografiche che per qualche motivo in quel momento non hanno l'accompagnamento sonoro, spesso ci viene in mente anche la musica. E questo è un grande legame che si crea tra il mondo della musica e il mondo cinematografico. E per questo la musica per film resterà al più alto livello tra le grandi pagine del Novecento musicale. E allora, se i jazzisti delle epoche passate, americani e non solo americani, hanno saputo cogliere dagli autori dell'epoca, delle grandi pagine che hanno portato nel loro repertorio, io credo che i jazzisti di oggi abbiano, per esempio nelle pagine di Ennio Morricone, tanto materiale con cui costruire la musica di oggi. Buon ascolto.